ciao a tutti sono giovanna mazzon vocal essence coach e fondatrice del metodo vocal essence se non sapete cos'è vocal essence vi lascio il link in descrizione in modo che possiate vedere i nostri corsi collettivi o individuali online oggi vi propongo un riff di una cantante che è molto conosciuta all'estero forse un po meno in italia si chiama Tori Kelly ed è spaziale nei riff vi propongo un riff un po più facile di livello base per partire sicuramente poi analizzeremo altri più impegnativi di questa meravigliosa cantante ascoltiamo subito il riff eccolo qui un bel riff o meglio possiamo chiamarlo un bel run ascendente perché appunto ha solo note che salgono la parola che usa per questo run ascendente è na u praticamente passa dalla n la a la o e la u dividiamo questo riff in due parti prima parte ancora questo sembra facile poi nella velocità diventa più difficile rifacciamolo un altro paio di volte lento un po più veloce andiamo avanti seconda parte ancora ecco ha una discesa di una singola nota anche se la maggior parte del run ascendente poi scende una volta solo che è questa nota qua attacchiamo la prima e la seconda parte insieme lentamente un po più veloce ok un po più veloce ok adesso che abbiamo scoperto quali sono le note del riff e le abbiamo un po cantate insieme dobbiamo cercare di fare quasi tutto in falsetto soffiato quindi con un po di arietta nella luce quindi molto molto soffiato proviamo a farlo un po di volte insieme poi lo proviamo con lei ok cercate di tenere molto molto l'aria dentro anche se è un po faticoso però insomma fatelo per qualche volta non esagerate proviamo a farlo insieme a lei se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like o un commento oppure scrivetemi attraverso i social magari proponendomi altri riff interessanti se non l'avete ancora fatto iscrivetevi ora al mio canale youtube e mi raccomando di attivare la campanella volentieri ciao 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 ciao